Buongiorno a tutti, sono Sara, rappresento la Wave & Co e anche quest'anno siamo qui all'ISE 2020. Ci troviamo nello stand di AOTO, una delle società quotate in borsa cinesi nella industria degli schermi LED con oltre 6 centri prevetti per quanto riguarda la tecnologia mini LED. Per quanto riguarda le nuove tecnologie vi propongo oggi la tecnologia mini LED. Qui alle mie spalle vedete il prodotto mini LED 1.2 da installazione fissa con un angolo di visione di 180 gradi. AOTO lavora con il proprio sistema di gestione, qui alla mia destra vedete le loro centraline con la gestione fino a 64k. Per farvi capire come si propongono sempre come pionieri delle innovazioni tecnologiche e dell'avanguardia quest'anno all'ISE 2020 propongono un cabinet con la completa assenza di cavi, un cabinet wireless senza cavi di alimentazione e di segnale. Continuiamo il nostro tour, ci troviamo nello stand di Color Light, ormai partner fidelizzato e strategico per Wave & Co da qualche anno. All'ISE 2020 presentano la nuova Z6 Pro, l'upgrade della ormai conosciuta Z6, escono con un prototipo della Z8 e l'H10FN. E per finire ci troviamo allo stand di Color, ormai un punto fermo per il mercato italiano. Wave & Co distribuisce di Color con i suoi prodotti Core, R-Series e M-Pro ormai da un sacco di anni. Quest'anno D-Color sceglie di presentare come prodotto main della Fiera ISO 2020 l'UC-Series, con la possibilità di realizzazione di differenti shape, tra cui l'angolo a 90 gradi. Wave & Co è distributore esclusivo per l'Italia e la Francia di tutti i prodotti D-Color. Abbiamo già nei nostri magazzini 600 metri quadri di A-Series 2.9 Indoor, prodotto Rental e M-Pro 3.9 Outdoor Rental. Non vi resta che venire a trovarci al Mir 2020, vi aspettiamo con i nostri fornitori A-Oto di Color e Color Light.